In seconda posizione l'Azzurro Gianluca Capretti Con il numero 52 Langemberg, l'atleta francese che si era portato subito in prima posizione Continuano ad alternarsi in testa al gruppo Naturalmente è importante il tempo al termine della batteria per poter rientrare nei 15 recuperi Ora la Spagna a tenersi in testa mentre l'Italia con Gianluca Capretti mantiene sempre la seconda posizione Sono nuovamente in prossimità del traguardo dove sentiremo al passaggio suonare la campana per l'ultimo giro Ed è Gianluca Capretti ora a mantenere la testa Gianluca Capretti che affronta in testa quest'ultimo giro Sempre in prima posizione Capretti L'andatura che continua ad aumentare Già ha lanciato lo sprint ai 200 metri Ed è così allo sprint siamo agli ultimi 50 metri 50 metri E conclusa anche questa serie Grazie 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 a tutti.